Ed ora il settimo concorrente è un original, Black Angel, Alessandro! Tribunale di Boston, voi avete commesso il più grave degli errori che potevate commettere. Avete fatto contannare e giustiziare nuovi innocenti di nome Harry Sardin. Quell'uomo ero io. E per Dio pagherete caro questo sbaglio. Perché io scatenerò l'inferno su di voi. E abbiamo trovato un vero colpevole. Farò inevitabilmente a trovare questo sistema malato e instabile sulle vostre teste. E in questo mondo ho dedotto al mare a sua falsa occupazione. Perleva nuovamente a venire la giustizia. Parare il ragazzo! Sero via la giusta! Sero via l'acqua che vedono tutte le valore. Forre altre carole Un ordine d'istituto o General Tagrice Alessandro! Ma tutto dovuto fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so te, mi sono tirato anche il microfono in faccia. Un passo avanti verso la giuria. Volevo farti una domanda. Dato che nella categoria original la traccia è presa da qualcos'altro di riferimento, l'ho fatta tu? Musica composta eseguita da me. A ottobre uscirà l'album. Io invece volevo scegliere da dove nasce questo personaggio, l'idea. Un po' dalla mia fantasia e un po' da una brutta storia che è comunque avvenuta in America 15 anni fa quando venne giustiziato nella camera gas un uomo e poi si è scoperto che era innocente. Grazie. Un applauso! Black Angel Buon dare. Siamo tutti in nero.